La mamma mi ha sempre detto tutto, toccatemi tutto, però i figli non me li toccati. Questo mi ha sempre detto, perché i figli sono giustamente, quindi non ho niente da dire. Il fatto che non si faccia sentire è strano come cosa, è preoccupante. Susi Paci manca da casa dallo scorso 23 gennaio a parlare uno dei due figli della donna, sempre più preoccupato per la misteriosa scomparsa della madre. L'ultimo contatto telefonico con Susi, prima che di lei si perdessero le tracce, risale al giorno della scomparsa. Con un sms infatti rassicurava il figlio del suo imminente ritorno. In quel momento ho pensato che avreste voluto fare lei una cosa, insomma, volontaria, che fosse andata via, però che la mattina dopo, cioè il giorno dopo per me doveva essere a casa. Io mi sono preoccupato, pienamente preoccupato dal giorno dopo in poi. La donna si era allontanata la mattina del 23 gennaio, aveva lasciato l'auto nei pressi della stazione di Arezzo, aperte con le chiavi all'interno. La macchina era aperta e le chiavi erano sotto lo stereo. È strana, però... Cioè inusuale anche per tua mamma? Era inusuale. Susi era poi salita su un treno direzione Napoli. Qui avrebbe incontrato un 45enne conosciuto in Chad, Teddy Caffiero, come riporta al TGR Toscana. Con lui avrebbe trascorso la notte in un hotel. Il mattino seguente l'uomo dice di averla riaccompagnata nei pressi della stazione, ma da quel momento Susi è stata come inghiottita nel nulla. Teddy Caffiero risulterebbe al momento iscritto nel registro degli indagati, un'iscrizione tecnica necessaria per eseguire accertamenti investigativi. Intanto proseguono senza sosta le indagini portate avanti dalla squadra mobile. Dall'inizio della prossima settimana, infine, dovrebbe arrivare il via libera dai social network Facebook, Instagram e Twitter alla polizia postale di Arezzo per avere così accesso ai profili di Susi, nessuno dei quali ma è più attivato dal momento della scomparsa. Non ho niente contro i voi, voi state facendo il vostro lavoro e lo state facendo, ho da ringraziarvi, nel senso lo state facendo al meglio che si può. Anzi, ho visto che avete diffuso la cosa e anche bene perché è più magari più al giro. Certo. Quindi io non è che so, io non so contro i giornalisti, anzi, fate il vostro lavoro e lo state facendo alla grande e ho da ringraziarvi. E io se la mia mamma ritorna a casa, grazie a tutta questa gente che insomma sta lavorando per farla ritornare a casa, io vi ringrazio a tutti. Se ritorna io come fioro l'accetto a braccia aperte, questo lo potete scrivere, non mi importa. Io l'aspetto a braccia aperte, ma anche mio papà l'aspetta a braccia aperte.